Un saluto dal Tg della Mobilità. I Parioli proseguono i lavori su Viale Bruno Buozzi dopo il cedimento del manto stradale avvenuto a metà dicembre. La strada è chiusa dall'altezza di Viale delle Belle Arti in direzione di Via Gramsci. Con l'avanzare del cantiere è stata modificata la deviazione per la linea 982 che segue dal 15 dicembre. Solo in direzione dal capolinea di Via della 17esima Olimpiade, la linea 982 prosegue su Viale delle Belle Arti, Via Aldrovandi, Viale Gioacchino Rossini, Via Bertoloni, Piazza Pitagora, Viale Buozzi e Via Schiapparelli, da dove riprende il normale percorso. Per ora è tutto, appuntamento alla prossima edizione.